fantastico buongiorno vincenzo manco buongiorno 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 a voi buongiorno vincenzo presidente dell'isp e in questo caso come dire narratore per noi di quello che ormai si approssima come l'edizione a riace di questi mondiali antirazzisti si dopo 23 anni di edizione abbiamo scelto in un territorio emiliano romagnolo quest'anno abbiamo scelto un segnale anche forte diciamo per talori dell'antirazzismo e dell'accoglienza di scogliere questa edizione anche a riace all'interno di un aumanazzo delle amiche antirazziste che abbiamo voluto appunto diciamo con lezionare nel rapporto con i comitati territoriali che ha in diversa un segnale significativo è quello come lo sport sociale può essere un messaggio di accoglienza di più fonte di intercultura mi permetto di allargare e credo che lo sport to core non sia un modo per per unire a prescindere dalle differenze delle peculiarità e le caratteristiche assolutamente se tutti diciamo facessimo riferimento anche la carta olimpica forse avremmo già un mondo migliore questo è quello che ti viene da dire diciamo la presidenza di una grande organizzazione come la più spettacolo e beh basta pensare al bilancio olimpico no è un luogo in cui si convive in pace anche se per 16 giorni però meglio che niente assolutamente è un messi in ponte temporaneo che però da l'idea di core immaginando semplicemente che nel rispetto della terza si possa raggiungere un risultato al di là del colore della pelle della regione del sesso e di qualunque altra differenza con l'idea che le differenze sono assolutamente una differenza che possono in quanto tale portare a casa anche dei risultati per ogni nazione per ogni team sportivo che dovesse diciamo careggiare in una qualunque competizione io ho osservato come piacere il manifesto no che tra l'altro ha distinto anche la fase che si svolta a bosco albergati no dal 30 maggio al 2 giugno un manifesto in cui tre figure stilizzate si elevano su un muro no attaccate a un fascio di palloni più che palloncini palloni da basket palloni da calcio palloni da pallavolo ecco è veramente no l'occasione per superare dei muri aprire delle brecce e andare oltre sì io credo che sia arrivato anche il momento di costruire l'ho dito molto bancamente di costruire anche una contro narrazione insomma c'è l'idea in questo paese è una cultura forte maggioritaria ma che maggioritaria non lo sia sia come dire trasmettendo controvalori e quindi permesso di dire quindi l'individuazione di un nemico e di immaginare che attraverso l'individuazione di quel nemico ogni problema personale sociale di una collettività di una comunità di una nazione possa essere risolto non è così lo sport è assolutamente un fattore per poter appunto costruire ponti per poter alleggerire la solidarietà e costruire coesione sociale quei palloni di basket di calcio di pallavolo portano in alto ed è valore diciamo i grandi valori dell'accoglienza dell'integrazione e un'idea di inclusione sociale che riguarda tutti non riguarda solo questa nazione a maggior ragione di fronte al grande fenomeno delle girazioni in cui oggi stiamo assistendo assolutamente sì tra l'altro ricordo che non si tratta soltanto di un mondiale ma di una summa di mondiali come stavi accennando calcio volley basket e beach rugby quindi insomma della fattispecie per quanto riguarda Riace la scelta del luogo è evidente insomma il motivo per cui però ecco qual è stata l'accoglienza che avete avuto almeno in queste prime fasi ricordiamo come si inaugura quest'oggi insomma certo alle 15 c'è il calcio un'accoglienza molto buona tenendo anche in considerazione delle trend che quel luogo ha vissuto anche di recente il cambio di amministrazione io ne approfitto per dire per ringraziare a questa iniziativa per noi è significare e restere diciamo atto ad una grande esperienza che non parte di più di anni come noi stiamo a parte alla fine degli anni avanti che ha significato non solo accoglienza inclusione e coesione sociale ma anche il campo del territorio attraverso un'idea molto chiara diciamo qui tra l'altro la carattica è stata sempre diciamo non soltanto dei tutti gli anni avanti evidenti come l'Italia in termini di accoglienza da sempre ecco ci sembrava opportuno esaltare quell'esperienza che è stata un'esperienza che ha fatto dirvi asce diciamo un punto di riferimento molto chiaro quindi vuol dire che una convivenza è possibile vuol dire che un mondo diverso è migliore è possibile l'importante è assumersi la responsabilità e assumersi il coraggio il coraggio di immaginare che non è più il mondo di 20 30 40 anni fa e che purtroppo se non si risolvono le disuguaglianze sui stati si riguardano il mondo ma riguarda solo questo paese e noi avremo purtroppo sempre a che fare con questo tipo di fenomeno quindi noi questa responsabilità come vista la sentiamo tutta e mettiamo a disposizione i mondiali antirazzisti e tutte le nostre attività soprattutto quelli al secondo sociale per rendere sempre vivo questo messaggio tra l'altro quasi per chiudere ma insomma dal 97 ad oggi perché da allora che si giocano questi si disputano si organizzano questi mondiali antirazzisti cosa cosa è cambiato? è cambiato diciamo l'importazione e l'idea del progetto mondiali antirazzisti nascono dal spesso che il progetto ultra era un progetto che è speso a rendere diciamo protagonisti i tifosi del tipo popolare che si riconoscevano e che trovavano in ogni forma diciamo degli stadi d'Europa intorno alla cultura dell'antirazzismo quindi era soprattutto un'idea che nasceva dal tipo popolare e dagli ultra delle squadre diciamo europee e italiane a mano dal 97 ad oggi come veniva giustamente il portato ha subito una trasformazione e quindi i soggetti non sono più tra o non sono ancora ma in modo digitale e di città dal territorio quindi partecipazione di associazioni, di cooperativi, di esperienze che sono state anche parte integrante degli strada nel rapporto con le istituzioni locali, con quelli che sono stati appunti di protezione per gli effugiati e richiedenti assilo e quindi fino ad oggi diciamo un'esperienza che partendo dalla specificità del calcio che è diventato altro si è abbattato appunto ad altri sport non solo ai gruppi ultra ma a tutti coloro che hanno ancora oggi appunto la volontà di costruire un mondo diverso attraverso la cultura dell'antirazzismo contro ogni discriminazione per costruire se davvero un'idea, diciamo, scontenza e pace tra i popoli. Ma io chiederei perché insomma Riace è un nome che si lega anche ai bronzi, no? I bronzi di Riace sono una magnifica allegoria secondo me, una ricchezza che viene da un altro paese che viene recuperata in mare e che diventa come dire un punto di forza, no? del luogo che li accoglie. Insomma, forse è tirata un po' per i capelli mi rendo conto però insomma un po' ci sta. ma credo che abbia, credo che invece abbia un senso, lo dico molto francamente, non credo neanche che sia tirata molto per i capelli, la cultura del Mediterraneo è un'assoluta fisica. La nostra, il nostro stesso paese, diciamo, lancia la cultura che dice che voglia dire, diciamo, nella narrazione, nella narrazione che se ne fa e sì, credo che il tema dei bronzi di riace, di quel ritrovamento e di quel territorio, che anche in quell'occasione sono stato posto i riflessori, appunto, mondiali, credo che proprio la struttura simbolico meriti esattamente dall'esperienza vissuta sui tempi dell'accoglienza, allo stesso modo, la stessa attenzione, con un valore diverso, quello era il ritrovamento dire vero e archeologici, artistici, ecco in questo caso noi abbiamo bisogno che davano la dimensione di tutte le grandi società che abbiamo apprezzato il Mediterraneo, noi abbiamo bisogno di sottolineare che la faccia di questo è possibile, tra i pochi, costruire la bellezza della cultura, la bellezza dell'intercultura, la bellezza di uno scambio, di una confidenza, ripeto, per noi, e l'ho visto, assolutamente possibile. Ci sono grandi esperienze su questo e a piacere è un dato. Assolutamente sì, insomma, ricordiamolo che non sappiamo neanche da dove arrivi, no, questo è stato, che vengono dalla Grecia, dalla Magna Grecia, che siano di cultura siceriota, poco importa, su Melle, ma diciamo così. Pensiamo alla bellezza, e alla bellezza quindi dello sport, della pratica sportiva, che può attivinare le persone con le loro identità. Grazie infinita Vincenzo Manco e Mocallupo per questo ormai incipiente mondiale antirazzista. Grazie a voi Vincenzo Manco e grazie ancora a voi. Ciao, grazie Vincenzo Manco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.